segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te ma non mi sembra che questa profezia si stia realizzando d'altra parte quello che mi chiederei al di là delle disquisizioni sulla vicinanza o meno e la comprensione col mondo dei media quanto la slain è vicina realmente al suo elettorato quanto le varie anime del pd si riconoscono in questa leadership e quanto come diceva giustamente la collega bonafè questo leader è in grado di amalgamare e unificare tutti a me sembra che in questo non ci stia riuscendo che ci sia semmai una corsa strumentale a non ad essere funzionari a una propria posizione che abbia un senso dal punto di vista ideologico ma semplicemente a rincorrere insieme posizioni che vanno solo contro il governo così come non dimentichiamo il dem e cinque stelle hanno governato insieme e non è stata un'esperienza così esaltante così come prima probabilmente l'amalgama il collante era semplicemente quello della poltrona io vedo due formazioni che in qualche modo inseguono un elettorato tra nostalgici degli anni militanti degli anni settanta e non meglio definite brigate di cittadinanza ma in uno spazio in un luogo dove non c'è più spazio per i liberali per i democratici per occidentali europeisti questo è quello che vedo forse un giudice